e perché l'ho sentito ho sentito profumo seguite bravo no ma non c'è andato giù il seve è asciutto vado giù io bravo vai a a a Grazie a tutti. 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 Mai mi aspettavo che andavi a cadere di là. Siede che ti piace? Ecco, ecco, vedi, misurata perfetta, guarda, finita. No, questo sarà da buio, preciso, 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 una figata questo, c'è anche il collo alto, ma questo mi sa che era di qualche motosega o di qualche cazzata del genere, ecco, se no così. No, 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 no. Perché noi puliamo, perché noi puliamo, perché noi puliamo, dopo passa lui con giù i piedi li raspa via tutti, va, 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 cioè, vuoi non... Grazie a tutti. Grazie a tutti.